La cosa significativa di questo libro è la lingua con cui è scritto. È una lingua che fa sì che Sequestunuomo sia un classico della letteratura italiana. Un classico della letteratura italiana è innervato dalla lingua di Dante, dalla lingua di Manzoni, dai riferimenti ai classici della nostra letteratura. Non a caso la prima parola con cui inizia il libro è fortuna. Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di mano d'opera, aveva stabilito allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi. La parola fortuna è una parola che è molto importante nella tradizione letteraria italiana e forse anche nel nostro modo di vivere. Contiamo sempre molto sulla fortuna. La fortuna è una parola che troviamo in Machiavelli e troviamo anche in Manzoni e in molti altri autori.